La situazione a Busto è la stessa che c'è nel resto della provincia, per cui assolutamente è sotto controllo, l'abbiamo valutata anche adesso al tavolo con i vertici delle istituzioni e per cui credo che non ci sia nessun tipo di allarme. E sull'aeroporto? L'aeroporto è il secondo aeroporto più importante d'Italia, il primo per merci. C'è una grande attenzione per esempio su tutto il traffico di stupefacenti che può avvenire all'interno dell'aeroporto, sia sulle persone che sulle merci e anche su questo devo dire che l'azione combinata, polizia, carabinieri, guardie di finanza, ha dato anche recentemente ottimi risultati.